Ciao a tutti, sono tornata con un altro piccolissimo video all di Aliexpress oggi mi è arrivato un pacchettino e ora vi mostrerò quello che mi è arrivato oh finalmente lo tiro già fuori così che faccio prima allora da questo venditore ho preso questa confezione qui se non sbaglio sono 55 pezzi ma non ricordo comunque vi lascerò i link qua giù in basso se siete interessati allora da questo venditore ho preso questo qui questo Wattel Decol che è il numero BIN624 con queste sfumature sul bianco, nero, grigio veramente belle guardate che bello sì ok no stavo guardando che qui sembrava unito in realtà c'è un piccolo spazio e niente di questa modalità qui che penso andrà a riempire tutto l'unghia ho voluto provare solo a prenderne uno perché non ho mai avuto occasione di provarli su di me ho sempre solo visto video ecco di come si applicavano e ho voluto provare per una volta e proverò su di me spero di riuscirci allora ora vi mostro il pacchettino più grande allora questo ce ne sono veramente tanti penso che alcuni saranno sicuramente doppi e ora ve li mostro tutti quanti ce la posso fare ok allora sono veramente tanti e c'è allora questo qui veramente bello con questi fiori sul blu sono anche leggermente in 3D non so se dalla fotocamera si riesce a intravedere queste piccole parti qua su loro belli belli poi ci sono questi fiorellini qua sull'arancione questi qua questi qui poi questi poi questi 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 qui che sinceramente non non mi piacciono più di tanto poi questi qua anche questi molto carini questi qui con questi fiori sul viola fucsie con queste farfalle gialle questi belli poi poi questo qui che sinceramente non mi piace anche questo non mi piace più di tanto ma ce ne sono talmente tanti che sicuramente ce ne saranno altri questi qui molto belli con queste rose sul giallo e fucsia poi questi qui credo sia un'orchidea credo credo sì penso di sì belli anche questi poi ci sono questi che non mi piacciono molto poi questi che sono ecco a metà fiore praticamente si dovrebbe applicare un fiore qua un altro fiore qui così quando vado ad unire ecco l'unghia sembra un tutt'uno la pellicolina ecco facciamo così forse faccio prima poi questi qui che lo stesso non mi piacciono molto questi poi questi qua questi qui questi qui che non mi piacciono per niente questi qua ah questa volta non ci sono i fiori ma ci sono farfalle dei pappagallini non saprei che animale è poi questi qui belle queste rose poi questi qua questo è veramente bello questo mi piace poi questo poi questo poi questo poi questo qua sul rosso veramente bello poi questi qui che ci sono questi fiori sull'azzurro sull'azzurro queste farfalle veramente belle poi questi qui poi questi qua belli questi fiori sull'arancione ancora rose poi ci sono questi fiori che non saprei che fiore ha poi aspettate lo metto ecco poi questi qui sono girasoli non saprei comunque poi questi qui poi questi qua questo qui questi mi piacciono parecchio belli non so se sentite ma ci sono dei bambini sotto il mio palazzo che stanno giocando e stanno facendo un macello assurdo e e niente mi tengono compagnia poi questi qua belli con questo animale che non so che animale sia bello comunque poi questo qui poi questo qua questo veramente bello su questi toni qua del verde poi queste rose qua sul rosso con queste farfalle veramente bello poi questi fiori qui queste qua queste qua sto arrivando verso la fine poi questo qui questi fiori blu veramente belli questi qua poi questi qui mancano pochi poi questo qua rimane molto chiaro molto delicato poi questi qui credo siano papaveri fatemi sapere giù nei commenti se ci ho preso con il nome dei fiori almeno di alcuni fiori poi questo qui wow bellissimo questo qui e infine questo qua che è veramente carino guardate questo quanto è bello che c'è questo fiore con tutto questo decoro intorno veramente bello provo a mettere ecco wow veramente bello e niente mi sembra che tutti questi li ho pagati intorno a 1 euro e 50 1 euro 80 comunque poco perché ecco appunto sono tanti e niente eccoli qua spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale lasciatemi un bel un bel pollicione in su e un bacione ciao al prossimo video